La Regione Toscana riorganizza le strutture necessarie per gestire l'emergenza Covid. Come illustrato dal Presidente Eugenio Gianni in una conferenza stampa insieme ad alcuni componenti della Giunta, è stata riattivata l'unità di crisi regionale, che si avvale di una task force sanitaria in raccordo con la sala operativa regionale della protezione civile. Gianni ha annunciato anche l'arrivo in Toscana di 500 nuovi operatori per tracciare i contatti dei casi positivi al Covid e contrastare la diffusione del contagio, reclutati fra gli studenti universitari degli ultimi anni di medicina e infermieristica e attraverso la selezione nazionale della protezione civile. È febbrile il lavoro che sta portando all'individuazione, sia da parte nostra sia da parte della protezione civile nazionale. È evidente che se arriva alla protezione civile nazionale con centinaio di persone, noi ne prenderemo 400. Se ci dicono che non ce ne sono, noi ci siamo dati l'obiettivo a 500 persone in tutta la regione per questo lavoro. Il presidente Gianni ha disposto anche la costituzione di altre 30 USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, portando il loro numero a 90. In corso di risoluzione anche il problema dei ritardi per eseguire e analizzare i tamponi. Mi hanno assicurato che è in corso un percorso di recupero dei ritardi che nei giorni scorsi si sono accumulati e che hanno determinato anche proteste dei cittadini. C'è un lavoro per organizzare meglio la filiera dei test, dei cosiddetti test rapidi antigenici perché richiede anche un lavoro di natura organizzativa, cioè non basta avere solo a disposizione la risorsa. Arriveranno nuove macchinette per macchine, attrezzature per lavorare questi test nella prossima settimana e sarà quindi potenziato anche questo tipo di attività nelle diverse aree della Toscana. Per allentare la pressione crescente sugli ospedali, la regione sta infine raccogliendo la manifestazione di interesse dei gestori di hotel e altre strutture ricettive, per reperire in tempi rapidi 1.500 posti letto da destinare agli alberghi sanitari. Grazie. Grazie.